Contro le olico offshore davanti alla costa del Molise insorge il mondo della pesca. Dopo il sì di lega ambiente che ha accolto con favore la richiesta di installazione dell'impianto da 120 torri, arriva il secco no di Federco Pesca Molise. Il presidente Domenico Guidotti si appella alle realtà locali, alla politica, al governo regionale. Stiamo diventando, ha detto Guidotti, una specie in via di estinzione. Il guaio è che non esistono associazioni ambientaliste disposte ad aiutarci. Come categoria di pescatori diciamo no a questo progetto. Non sappiamo quali conseguenze l'impianto potrebbe portare per l'occupazione nei settori della pesca, dell'ittiturismo e del turismo, settori trainanti del nostro territorio. Per Guidotti l'eventuale concessione porterà conseguenze negative sull'economia ittica molisana, in considerazione anche della generale riduzione dei periodi e delle aree di pesca nel rispetto delle norme europee. Non si può sottrarre, ha detto ancora, ulteriore spazio alla pesca. Vista la fase di studio del progetto non ci risulta che ad oggi la Maverick ne abbia discusso con i vari portatori di interessi presenti nel territorio molisano, soprattutto con chi attraverso la pesca cerca di dare un futuro alla propria famiglia, in un territorio già di per sé povero di alternative di lavoro. Un'ulteriore superficie importante di Adriatico non sarà più utilizzabile per la nostra attività. Da Federco Pesca anche l'accento sulla sicurezza del lavoro in mare, sulla necessità dei pescherecci di rientrare in porto senza rischi, secondo la rotta più veloce e nel più breve tempo possibile. Quando le condizioni peggiorano e arrivano le burrasche, ha concluso Guidotti, non possono certo fare lo slalom tra zone interdette, pali e cavi in mare.